gentili telespettatori buona giornata il presidente del consiglio mario draghi cancella la riforma di renzi cos'era la riforma di renzi era la quella quella genialata di mettere il canone rai nella bolletta vi ricordate come fanno quei paesi in fallimento dove vi mettono come aveva fatto la grecia durante il quasi fallimento dove metteva i soldi che voleva lì che chiedeva li metteva nelle bollette che voi non potevate non pagare e così il canone rai uscirà dalla bolletta torna all'antico presto gli italiani smetteranno di pagare le tasse per mantenere la tv pubblica direttamente dalla bolletta elettrica si tratta di un esborso per le famiglie di 9 euro al mese per 10 mesi per complessivi 90 euro la riforma renzi sul canone era voluta dall'allora presidente del consiglio sta per essere accantonata dall'attuale premier mario draghi anche se gran parte della spinta a far uscire il canone televisivo della bolletta arriva dall'unione europea è proprio l'europa che chiede per motivi di trasparenza e rispetto della concorrenza di eliminare gli oneri impropri dai costi dell'energia e draghi ha accettato di cancellare il canone rai dalla bolletta elettrica vedrete che cancellandola dalla bolletta elettrica il canone rai subirà verrà dimezzato cioè le entrate alla rai verranno dimezzate e così il governo italiano prende e diventa conforme alle direttive dire più che direttive ai consigli i forti consigli che arrivano dall'europa di cancellare il pagamento diretto in bolletta del canone rai praticamente gli italiani stanno pagando come 20 30 centesimi al giorno per vedere la rai diciamo un un terzo di caffè al giorno per vedere la rai e lo fa attraverso il recovery fund quel pnrr i fondi dell'unione europea che finanzieranno le riforme anti crisi delineate dall'esecutivo il disegno di legge in questione è quello sulla concorrenza come spiega il messaggero l'eliminazione del canone rai della bolletta elettrica risponde quindi agli impegni presi dal governo draghi con l'unione europea all'interno del piano nazionale di ripresa e resilienza dove si promette la cancellazione dell'obbligo per i venditori di elettricità di raccogliere tramite le bollette somme che non sono direttamente correlate con l'energia come scrive il quotidiano romano il canone della rai come vi dicevo sono 9 euro al mese per 10 euro direttamente in bolletta elettrica introdotto a fine 2015 dal governo renzi per sopperire all'endemica evasione sull'imposta per la tv pubblica costava 113 euro all'anno ma in pochi pagavano davvero obbligare gli italiani al pagamento del canone mediante addebito sulle fatture messe dalle imprese elettriche ha risolto il problema dell'evasione con l'inconveniente però di far apparire le bollette dell'energia molto più care dell'effettivo però perciò bruxelles non ha lesinato critiche nel corso degli anni al governo italiano e ora la questione sembra risolversi beh insomma risolversi per modo di dire perché il canone o lo si abolisce o lo si fa pagare a tutti adesso il canone non lo pagheranno tutti da adesso in poi il canone probabilmente non lo pagherà quasi più nessuno e cosa faranno arriveranno le cartelle di equitalia a tutti quelli che prima lo pagavano in bolletta quell'indirizzo adesso non lo pagano più vi arriverà l'esattore delle tasse che suonerà alla porta non avete pagato il canone che cosa che cosa il canone l'abbonamento alla rai è un po fuori dal tempo ricordiamoci che la rai con tutti i soldi che riceve dagli italiani 9 euro al mese a famiglia non è in grado di sostenersi da sola perché in rai esultavano abbiamo chiuso in pareggio in pareggio in pareggio con il canone obbligato dagli italiani le pubblicità e in più lo stato giuseppe gli ha dato 80 milioni di euro con queste tre cose sono arrivati in pari quindi un'azienda fallimentare perché le aziende private media sette altri hanno avuto un incremento del 30 40 per cento delle entrate sono in forte redditività guadagnano molto e non hanno gli 80 milioni che sono arrivati dal giuseppe e non hanno il canone della rai obbligatorio hanno solo le pubblicità mentre la rai con tre cose non è capace a guadagnare neanche un euro uno spreco e uno sperpero di soldi pubblici proprio ieri stavo guardando un documentario fatto bene e vedo e sento che ci sono delle musiche attuali di cantanti attuali cioè musiche che sentite alla radio quelli sono tutti i diritti televisivi che pagano se voi andate a vedere altri documentari su altre reti private non utilizzano musica alla moda recente ecco perché nelle televisioni private stanno attenti ai costi nelle televisioni pubbliche tanto paghiamo noi mettici l'ultima canzone del cantante famoso nel documentario tanto tanto pagano gli italiani avete capito questa è una una delle tante cose c'è però è bello sentire il documentario con l'ultima canzone di vasco rossi vi dico una cretinata no e beh sì però per sentire quella canzone di vasco rossi nel documentario della rai il primo nome che mi è venuto in mente ovviamente poi devi pagare quei nove euro al mese e poi la rai non guadagna niente va in pari una rai che potrebbe aiutare lo stato non un carrozzone perché è un carrozzone giuseppe ha dovuto dare 80 milioni o 84 se no la rai sarebbe stata in perdita manco una televisione sono capaci a far funzionare lo stato no questi lo stato non sarebbe capace a far funzionare un bar a far funzionare un piccolo supermercato niente di niente di niente per questo che la rai andrebbe sistemata una volta per tutte televisione di stato io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti